Proseguono con successo i seminari tenuti dal rettore Unicam Claudio Pettinari agli studenti delle scuole superiori della regione. Un viaggio attraverso la scienza straordinaria dalla Coca-Cola alla ragnatela di Spider-Man è stato il tema dell'incontro che ha visto protagonista il rettore Pettinari, chimico inorganico, che ha raccontato ai ragazzi che hanno assistito con notevole interesse la scienza nella nostra quotidianità, tra supereroi e molecole, squadre di football e funzioni, Coca-Cola e microchip. Tutto per porre l'attenzione su quanto la scienza, in questo caso specifico la chimica, ci circonda nei materiali e nelle situazioni che viviamo ogni giorno, agli allenamenti, a scuola, a casa, con gli amici, quando ci innamoriamo, quando ci arrabbiamo, quando siamo felici. Il seminario è uno dei frutti della proficua collaborazione che va avanti da diversi anni tra l'Istituto di Istruzione Superiore Mattei ed Unicam, a dimostrazione di quanto sia importante il legame tra Ateneo e Scuola Superiore.